Siamo facendo un video, Sáenz. Sáenz! 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 No, Maledetto. Maledetto. Dove spengo? Solo questo. Si. Sì, questo spento, tutto. Eh, perciò solo non ti ho sceso di voglia. Appena finisce il video. un bel, un prodotto, non si sta agumando nel lobo un bel, un prodotto, non si sta agumando nel lobo un prodotto, non si sta agumando nel lobo un bel, un prodotto, non si sta agumando nel lobo un prodotto, non si sta agumando nel lobo Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.